La rivoluzione digitale dell'Inps è ormai prossima al suo completamento. Una trasformazione radicale nella vita dell'Istituto, ma anche dei cittadini e dei professionisti che interagiscono con esso. Un convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Achille Coppola, ha analizzato i nuovi scenari che prevedono la presentazione delle domande attraverso modalità alternative rispetto a quelle tradizionali. Web, Contact Center, intermediari dell'Istituto. Le innovazioni sono rappresentate innanzitutto dalla telematizzazione integrale di tutte le domande di servizio. Questo comporterà meno accessi fisici ai nostri sportelli e la possibilità di prestare una consulenza più qualificata all'utente. Ci consentirà di recuperare molte risorse che potranno essere adibite ad attività produttive e quindi una risposta in termini assolutamente più celeri a tutti quelli che hanno necessità di ottenere prestazioni. La sinergia con i professionisti riveste un'importanza strategica fondamentale. I nuovi scenari telematici consentiranno di garantire un servizio migliore, minore afflusso agli sportelli, una graduale riduzione delle code agli ingressi degli uffici e soprattutto per gli utenti risposte più veloci. In questo modo gli uffici potranno concentrare la loro attività sulla produzione amministrativa interna. Noi come commercialisti e esperti contabili siamo impegnati da sempre a collaborare con l'amministrazione. L'Istituto Nazionale di Prevenenza Sociale ci ha chiamato come ha chiamato tutti gli attori dell'attività professionale a cercare di delimere tutte le problematiche nella loro utilizzo dei risorsi umani. Ci saranno le nuove piatteforme telematiche dove noi insieme agli altri colleghi professionali che si interessano in condizioni di dobbiamo occuparsene per dare maggior spazio agli istituti regionali e provinciali di poter meglio utilizzare i risorsi umani. Noi ci metteremo tutta la nostra capacità professionale e tutto l'impegno. Speriamo anche che l'amministrazione sia riconoscente per dare a noi quei giusti canali per poter tutti insieme dare una svolta a questa nostra economia tanto in questo momento particolarmente debole. I tempi sono maturi per questa rivoluzione telematica che coinvolge i professionisti e coinvolge anche l'Inps. Ormai la telematica ha preso piede e sta viaggiando a velocità molto sostenuta in tutti i settori e mancava solo questa rivoluzione con i rapporti con l'Inps. Fortunatamente, dico fortunatamente perché io credo in queste rivoluzioni telematiche e credo in questi collegamenti telematici perché semplificano molto la nostra attività a breve noi tempi, riducono i tempi di trasferimento soprattutto in una città come Napoli affletta storicamente dal problema traffico. Quindi si agevolano molti i rapporti e si velocizzano anche in tempi di risoluzione delle problematiche di ogni singola pratica. Noi come commercialisti siamo sempre stati vicino alle rivoluzioni telematiche nel senso che come commercialisti ormai da anni trasmettiamo molti documenti sia fiscali che previdenziali telematicamente. Speriamo che in questa occasione, che è l'ulteriore occasione che ci dà l'Inps di trasmettere telematicamente questi documenti, ci sia anche una maggiore attenzione da parte delle persone che poi sono deputate a gestire la documentazione che noi inviamo al fine di ridurlo quanto più tempo possibile per risolvere le problematiche degli studi. Abbiamo assoluta necessità che i professionisti collaborino alla realizzazione di questo processo. Loro rappresentano per noi già intermediari assolutamente qualificati. Abbiamo già sperimentato negli anni passati forme di sinergia e di collaborazione che in questo momento non possono che essere potenziate. Grazie. Grazie.